Come hanno partecipato dei progetti di cooperazione internazionale? Lo ha fatto in modo convinto e oggi possiamo dire che questi progetti sono stati progetti positivi, che hanno portato risultati. Nello specifico ne abbiamo seguito uno con la Tunisia per aiutare la nascita di start-up sul mondo del biologico e dell'agricoltura. Ne abbiamo fatto altre anche con altri paesi, sempre rivolti ad una solidarietà internazionale. La cooperazione internazionale è importante, è uno strumento molto utile per mantenere coesione, aiutare lo sviluppo e soprattutto aiuta anche a sensibilizzare le coscienze che se c'è una solidarietà internazionale significa una maggior civile convivenza, meno tensioni e uno sviluppo più armonioso. Ancora di più lo è importante se attori protagonisti sono i territori, le amministrazioni comunali e il nostro caso lo ha dimostrato.